ciao a tutti ragazzi sono lucchetto e benvenuti nel mio canale oggi andremo a finire Resident Evil 2 con la nostra mitica claim dobbiamo sintetizzare il vaccino non perdiamo tempo lasciamoci il nastro dai 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 ragazzi che ci siamo quasi ci lasciamo il nastro prendiamoci l'accendino dov'è 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 ci lasciamo la pistola le dimostrazioni non ci servono più ok andiamo così perfetto andiamo oh 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 filmato è Leon dai claim se l'abbiamo fatta eh ok ci sarà il vaccino ragazzi dai ragazzi siamo pronti siamo armati fino ai denti questa musica ci gasa mi carica mi mette anche ansia sta per esplodere tutto mappanculo questo qua avvisa vai ci ha fatto male sì ci dovrebbe essere una piantina la piantina pronta all'uso usiamola dai così ci troviamo dobbiamo stare sempre full vita qui che è tutto molto pericoloso ci fanno molti danni adesso i zombie i leakers e tutto il resto andiamo a trovare sto vaccino o meglio sintetizzarlo ok andiamo su cadiamo la scala dai Claire dai dai non c'è tempo corri qualche piantina adesso vi ricordate con la porta chiusa l'apriremo con l'accendino non c'è nessuno ok possiamo andare ok tranquillo vai tranquilla qui questa piantina usiamo l'accendino come no sì sì devi accendere la pianta e bruciarla ok brucia vegetale inutile ci facciamo anche una baladoccia perché non si lava da tanto tempo andiamo e che cosa ci sarà in questa stanza frutta e sorprese ben due ragazzi due due di questi qua sono posti adesso solo uno curiamoci un altro corpo curiamoci adesso pericolo uno e tre questo attacco con la lingua è mortale siamo sopravvissuti per un soffio tantissime granate esplosive ok prendi tutto ok abbiamo finito abbiamo finito possiamo uscire dalla stanza dai ragazzi che ci siamo quasi dai ragazzi wow ragazzi sono emozionatissimo dai dai ok ok se vi ricordate dobbiamo mettere in questo pannello le nostre impronte digitali facciamolo ok inizio verifica sì sì ok ok ci siamo ragazzi inutile la scartiamo vai 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 altre granate come se piovessero mamma mia prendiamo anche il vaccino cartuccia vaccino qui c'è qualche ospite indesiderato mamma mia fatto a pezzi mamma mia accendiamo la luce intanto non pa- ok ok tu rimani dove sei bellissime queste granate esplosive mettiamo dentro la cartuccia mettiamo dentro la cartuccia come noi mette la cartuccia ok voi due fate una brutta fine c'è ancora un altro amico ok adesso non c'è più qua è il pannello di controllo del BAM attiviamolo sì uh ragazzi sono sempre più emozionato questa musica mi mette una tensione addosso prendiamo il disco MO che ci permetterà di uscire dal laboratorio dove sto andando devo prendere il vaccino wow sto scordando le cose ok adesso possiamo sintetizzarlo e fuggire vediamo ragazzi qui dai 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 che ci siamo dove va tocchi dai ci siamo dove va tocchi ci prendiamo 6 piante sì ce la facciamo prendiamoci tutto per il boss finale ragazzi tutto è utile combiniamo sì scendiamo wow siamo a un passo per sintetizzare il vaccino e finire il gioco qui sento rumori di brutti rumori qui qui esplodi ma questo mi sta tirando ancora vivo perché c'è ancora la testa e tu ti spacchi in mille pezzi qua c'è un altro amico qua altri due no cavolo no 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 brutta faccetta stiamo consumando un po' di munizione a cazzo però ne abbiamo 20 usciamo il disco MO per aprire la porta ok vediamolo ok adesso lasciamo nel nostro amico baule anzi non lasciamo ne prendiamo piante e munizioni vai Claire dai ci lasciamo l'accentino prendiamo munizioni e piante e piantine tutte le piantine ok direi di andare vai vai Claire dai Claire più in fretta non c'è tempo corri qui qua è il punto tranquillo dai eccolo qua mettiamo il vaccino di base per completarlo finalmente ci siamo premiamo questo interruttore per favore ce l'abbiamo ragazzi leggiamolo sono curioso con questo posso salvare che è sempre bellissimo bellissimo adesso ragazzi direi di affrontare l'ultimo post che come avrete capito è il padre William mutato dal suo assesso virus dove sto andando qui vai 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 altre piante dai tutto 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 abbiamo questa pianta un'altra pianta questa la combiniamo facciamo un massimo così vediamo l'altra pianta vediamo questo dov'è? quella è due possiamo portare un'altra tra e no e si 1,2,3,4 ma si portiamo c'è altre piante dai 1,2,3,4 ma si portiamo c'è altre piante dai 1,2,3,4 oh ragazzi questo è il nostro setup pieno di combiniamo ok tutte le piante tutte le munizioni andiamo papam 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 speriamo che non troveremo altri zombie tronti coglioni qua abbiamo aperto precedentemente e andiamo 5 minuti fino alla detonazione abbiamo ragazzi solo 5 minuti si chiude la porta alle spalle dai 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 ragazzi siamo giunti alla fine chiamiamo l'interruttore siamo pronti? si wow ragazzi uno due tre dai ascensore dai ascensore niente ascensore ecco William oh mamma mia stappiamo aiuto 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 mi fa sempre paura wow tre porti e sta mutando ragazzi nella sua forma più brutta e violenta perché può saltare e con una presa ci può uccidere bisogna stare molto attenti quando ci colpisce curarci immediatamente vediamo se lo riusciamo a colpire un'altra volta niente dove stai? scappiamo un po' scappiamo un po' eccolo qua lo facciamo avvicinare vieni ragazzi curiamoci puriamoci 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 adesso niente siamo morti ragazzi che bello ve l'avevo detto che è come un colpo eravamo ok da ok ci ha fottuti ci riproveremo una volta sono morto ragazzi siamo tornati ci riproviamo per la seconda volta e adesso non ci facciamo fregare attenti dai un colpo si gira due colpi e si muta muta mutati dai 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 vieni qua vieni fatti soppo mi sto cacando dalla paura dai che ce la facciamo un colpo lo prendiamo vai al volo anzi andiamo dall'altra parte stavolta sopra di noi andiamo in mezzo possiamo prendere sopra? non lo so non lo so dov'è? vieni qua vieni vieni da papà aiuto liberati Clay curati ci curiamo ci curiamo ce l'abbiamo fatta si è incastrato per nostra fortuna ci siamo curati solo una volta e sei morto o forse no vedremo per adesso per adesso è arrivato l'ascensore scappiamo dai 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 mamma mia ci ha preso ci ha sbattuti a terra ma l'abbiamo fatta franca noi dov'è? no di là dall'altra parte l'ascensore tre minuti ok abbiamo tutto il tempo e ce l'abbiamo fatta dobbiamo arrivare al treno sani e salvi con Dio e Sherry ancora dai ragazzi eccolo qui la nostra via di salvezza ragazzi filmato wow si 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 godiamoci il filmato ragazzi che 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 non 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 c'è che non che è pensi Tutto ok ragazzi, ha funzionato Oh, Sherry, tu sarai bene Grazie, Claire È terminato Non, devo trovare mio fratello Certo, questo è proprio il principio Ah, mia godessa ti protegge Ti sarà sempre con te Claire Sherry Ragazzi, è finita Ma non è ancora finita Perché ci aspetta La partita giocata con Lyon Scenario B E vedremo il suo punto di vista Come si evolverà Ah, sì Vediamo se possiamo saltare i crediti, ma non credo No Vi ringraziamo tutti coloro Che hanno sviluppato questo bellissimo gioco Grazie a voi della visione della compagnia Spero di non avervi annoiato troppo con dei tempi morti Però io lo gioco così restentivo Però io lo gioco così restentivo Non 你 vediamo il nostro paese di dirte Che è gioco fare su, è ancora finita Non ti si ne vuole Lo gioco con dei tempi morti E mi vediamo come sempre Abbiamo come sempre Io la visione della compagnia E grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un punteggio B creerà 8 salataggi 3 ore 8. Si può fare anche in un'ora e mezza, due ore, un punteggio A e si sbloccano delle armi speciali. Io ho sempre fatto B. Grazie a tutti. Ciao.